Fanno sciopero quelli in Serie A perché è sentito, se fa sciopero la Serie C non gliene frega niente a nessuno. Siamo d'accordo, tu dici che è una questione di vetrina, ma sicuro? Sì, secondo me si presta la Serie A, i giocatori ovviamente, per i ragazzi che giocano nelle categorie inferiori e che non prendono degli stipendi. Non è la Serie A, fa sciopero l'Associazione Italiana Calciatori, non la Serie A. Sto dicendo l'Associazione Italiana Calciatori, ma lo fanno per i ragazzi che prendono 20-25 mila euro all'anno, non al mese, in C2, e che se ti dicono da Pordenone vai a Isernia, devi prendere su, e quelli sono problemi. Cioè uno ci vorrebbe a mio avviso un tetto d'ingaggio, da lì in su fai quello che ti dico e lo metti per iscritto, se io ti voglio trasferire tu ci vai, con degli stipendi adeguati. Ma un disgraziato che non arriva alla fine del mese... Sì, va bene. No, ma ce ne sono... Io chiedo questo, che ripercussioni sono quelli... Un disgraziato che non arriva a fine mese, con 25 mila euro all'anno, i disgraziati sono quelli che prendono 800 euro al mese e stanno attaccati a un torno o 10 euro al giorno. Guarda, amico mio, quello che lavora fuori casa, ha un tenore di vita un po' superiore, molte volte purtroppo non hanno la testa perché sono ragazzi di 20 anni, è un disgraziato, finisce di giocare, non ha né arte né parte, almeno quello che prende 1000 euro al mese, ha un lavoro. Ma è una scelta che ha fatto. Ma che scelta? Ma basta. Ascolta, l'ho detto, ma chiedi... Ci vai tu là. No, sta buono, io non ti ho detto. No, ma non è questione, non è questione. L'ha fatta lui la scelta per andare a giocare a calcio? Io ho iniziato il mio ragionamento dicendo, se accampano dei diritti o vogliono mantenere dei diritti o vogliono che siano riconosciuti dei diritti, mi auguro che li raggiungano in tempo. Ma sentirmi dire, il disgraziato che passa da Pordenone e Iserno... È disgraziato, mettila come vuoi, è disgraziato. Non dire che è ricco. Che la smetta. Ma non dire che è ricco. Ma sei disgraziato perché non la farei in turnico. Ma io sto buonissimo. Ma sta buono. Non possiamo avere lo stesso ragionamento. Tu la pensi così, io no. È disgraziato quello che va a Torano. È un discorso il tuo demagogico e basta. È il tuo demagogico. No, è il tuo demagogico. Perché dire che un ragazzo che gioca a calcio è disgraziato perché da Pordenone, deve andare Isernia. Io credo che sia più disgraziato quello che si fa alle 5 di mattina e va a lavorare, semmai dalla parte opposta della provincia, per 800 euro al mese. E che in cassa integrazione non ha più futuro a 35-40 anni. Ascolta, va bene. Allora, tu non hai vissuto all'interno del calcio, all'interno di una società come ho fatto io. Ma che ne sai? Che non ha... No, tu non lo sai. Ma non mi conosci. Ma non mi conosci nemmeno. Non sai niente di chi sono. Ma non me ne frega niente. Qualcuno mi conosce. Ma stai zitto. Ma io non sto zitto. In un mondo civile, in un mondo fatto che una domenica senza calcio di Serie A, cioè perché per me il problema è che la gente ci pone. Ma è mai possibile che oggi un italiano che abbia quei problemi che ha detto che abbiamo, se c'è una domenica senza un calcio di quello vero, che noi lo consideriamo solo quello, ingiustamente quello vero, stiamo una domenica senza calcio, creiamo dei problemi, lato B non va, non va, non va, ci va. No, no. Ma che cos'è? Ma ci stiamo scannando su una cosa per una domenica dell'11-12 dicembre che non c'è la... Hai un sorrisino, ho un po' un gastone che io ho capito perché. Ma vabbè, ma perché? Gastone, scusa, è un altro problema. Sì. Allora, qualsiasi categoria che fa sciopero, che è legittimo fare tutte le categorie, quando fanno sciopero non prendono lo stipendio. Se i giocatori non fanno sciopero domenica prossima, cosa rinunciano? Ma niente. E allora è giusto?